Ciao ragazzi, bentrovati in questo nuovissimo video. Siamo ancora qui su Pausa Caffè e non ci stancheremo mai di parlare del Festival di Sanremo perché ha portato un sacco, un sacco di critiche, un sacco di polemiche. E dove ci sono critiche e polemiche? Dietro ci siamo anche noi. Abbiamo assistito ai vari cambi d'abito della Ferragni, quindi ci chiediamo anche come possa aver reagito Fedez. Insomma, prima serata di enorme successo del Festival della Musica Italiana, abbiamo visto i primi 14 artisti che si sono esibiti davanti a una platea che ha acclamato con lunghissimi applausi la presenza della moglie del rapper italiano. Tanti sono stati momenti emozionanti per Chiara Ferragni, ma nel frattempo Fedez commentava così esattamente la diretta TV, quindi sapremo anche cosa ha detto lui. Senza alcun dubbio la nota imprenditrice milanese non poteva che onorare il palcoscenico dell'Ariston durante la serata di debutto del Festival. Solo quando sarò pronta, così Chiara Ferragni ha deciso che il 2023 sarebbe stato l'anno giusto per lasciarlo accadere. E nel corso della serata, con addosso l'abito che ricreava i dettagli del suo corpo, l'influencer ha deciso di parlare al pubblico attraverso un monologo scritto di proprio pugno. Una lettera alla Chiara bambina, che la mamma di Leone e Vittoria ha declamato con occhi commossi. Ma ancora prima del monologo che ha coinvolto ed emozionato il pubblico, Chiara Ferragni non poteva che fare il suo ingresso in modo impeccabile. Pensati libera, la scritta è apparsa sul coprispalla bianca fin da subito, lasciando intuire lo spirito con cui l'influencer avrebbe affrontato il corso della serata in rappresentanza di tutte le voci femminili che tendono a rimanere fin troppo, soffocate. Un ingresso sul palcoscenico dell'Ariston che non poteva che andare incontro anche alla reazione del marito Fedez. Le semplici e pur così forti parole arrivano da un'opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato a loro imposto dalla società. Una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni che lotta per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna, si legge a corredo del post su Instagram che mostra Chiara con addosso lo stelo manifesto. E al contempo Fedez che osservava incantato la scena commentando su Instagram, si stackegan addosso, ha detto sorridendo e poco dopo è arrivata anche una frase liberatoria, ho fatto dei figli con questa donna. Poi la foto con la didascalia, amore mio, che conferisce tutta l'intensità del momento che anche il marito della co-conduttrice del festival ha sentito e ha voluto comunicare ai fan. Chiara Ferragni sarà presente anche nel corso del grande finale in onda l'11 febbraio sempre sul canale Rai.